Fano si riveste di colori e profumi, grazie alla festa dei fiori che si svolgerà questo weekend in zona Pincio e che seppur in maniera del tutto ridimensionata a causa della pandemia, anche quest'anno rallegrerà questo primo periodo autunnale, facendo fiorire la città. Organizzata dal comune di Fano e concordata con quello di Pesaro, sarà un'edizione diversa dalle precedenti, che vedrà solamente la realizzazione di una mostra a mercato, rinunciando però agli eventi collaterali che avevano caratterizzato gli scorsi anni. Venerdì, sabato e domenica torna la mostra a mercato dei fiori, non ci saranno più tutti gli eventi collaterali che ha fatto crescere la manifestazione in questi anni per non creare criticità in questo momento di Covid, ma abbiamo ritenuto opportune far comunque lavorare il settore in considerazione che abbiamo visto che comunque anche nel mercato cittadino ultimamente si sono ripristinati delle condizioni e le condizioni di sicurezza si possono ottenere. Comunque manteremo i 30 espositori che ci daranno la possibilità di abbellire le nostre case, di abbellire la città, di farla diventare più green, che è veramente opportuno in questo momento anche così difficile. Quindi realizzeremo la mostra a mercato con gli standard di sicurezza necessari.